Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri in via Campana, all'angolo con via Marmolito, più o meno nei pressi della zona delle cave di quarto. Secondo quanto si è appreso dalla centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, il ruogo ha interessato un'ampia zona dove si trovano canneti e anche estesi cumuli di rifiuti che l'avevano trasformata di fatto in una discarica a cielo aperto. Sono intervenuti ben cinque mezzi dei pompieri, circa una quindicina di uomini, per cercare di tenere sotto controllo le fiamme, ma fuoco e fumi hanno continuato a venire fuori fino all'intervento dell'elicottero. L'incendio ha suscitato timori negli abitanti della zona, già messi a dura prova dalle esalazioni poco gradevoli dei cumuli di spazzatura, preoccupati in particolare dalla possibile dispersione nell'area di Diossina, sprigionata dalla combustione della plastica. Dubbi sulla natura dell'incendio, che potrebbe appunto essere di tipo doloso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno provenuto a transennare l'intera area in attesa delle verifiche che saranno compiute dalla Procura di Napoli per stabilire eventuali responsabilità riguardo all'accaduto.